Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video velocissimo dove vado ad unboxare una serie di prodotti che mi sono arrivati da Amazon e sinceramente non so cosa ci sia dentro, in realtà io sono in ufficio, praticamente arriva la mia collega, ah le è arrivato un pacco, va bene grazie ha arrivato un pacco, va bene grazie ha arrivato un pacco, va bene grazie e non ho mai fatto unboxing di questi benedetti pacchi quando li apro trovo un'emozione terribile perché non so cosa c'è dentro e praticamente voglio condividere insieme a voi allora oggi mi sono arrivati ancora pacchi e niente voglio aprirli insieme a voi guardate questo pacco gigantesco, adesso voglio aprirlo e vedere cosa c'è all'interno così anche voi sapete cosa mi arriva, in realtà io non ho il cutter però utilizziamo la forbice e vediamo cavolo ragazzi, questa Amazon mette più carta nei pacchi che da qualsiasi altra cosa via oddio ragazzi, mi è arrivato un kit per fare gli esercizi in casa praticamente lo fissate tipo alle pareti o lo fissate, non lo so, dopo vedremo dove fissarlo e praticamente fate le flessioni con questa corda gigante che lunga tipo 6 metri e praticamente è ripiegata, quindi avete sia la parte destra che sinistra e fate gli esercizi in casa vabbè, andremo a vederlo magari un attimino ma non credo ci entrerà molto col canale lo lasciamo un attimo da parte oh ragazzi, questo è il pacco sorpresa questo ve lo farò vedere dopo è veramente agghiacciante quando l'ho visto mi si è gelato il sangue lo lasciamo un attimo qua andiamo a vedere cosa mi ha mandato easy hatch oh, mi ha mandato una coverina mi sa una coverina easy hatch, custina PMP, Galaxy S6, transparent new ah, mi ha mandato una custodia per Samsung Galaxy S6 vabbè, dopo andremo a vederla magari velocemente glass, bla 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 vetro temperato per iPhone 2,5D per l'iPhone 6 0,3 millimetri quindi abbastanza spessa come pellicola la lasciamo un attimo da parte wow ragazzi, mi è arrivata una nuova auricolare bluetooth della Yesbod se lo giro magari meglio Yesbod modello QY19 sweet proof green new no, la voglio andare assolutamente a vedere voglio vedere assolutamente con voi questa nuova auricolare di Yesbod vado subito ad aprirla ma mannaggia questa Yesbod fa queste confezioni bellissime in cartone riciclato che sono molto attenti si vede alla natura la confezione Yesbod quando le aprite sono le più belle secondo me perché guardate all'interno abbiamo questi disegnini tutti in serigrafia poi andiamo a pigiare questo si tira su e guardate che belle cuffie wow sono delle cuffie bluetooth bluetooth, giusto non bluetooth come dicono in tanti e sono delle cuffie di colore verde le ho scelte verdi perché cavolo quando vado a correre almeno sono un po' più fashion guardate che belle no ve le devo far vedere perché sono delle cuffie veramente bellissime guardate guardate che belle con anche il bilancerino del volume il tasto per cambiare eventualmente canzone in mezzo e qui c'è lo sportellino per la ricarica ma che belle poi la confezione di Yesbod sono sempre ben fornite di tutto perché praticamente all'interno abbiamo poi tutti i vari gommini che potete cambiare vedete tutti i vari gommini no no addirittura ci sono anche quelli lì con il pirolino sopra c'è il cavetto usb micro usb per ricaricare la Yesbod e c'è anche il manuale di istruzioni che su questa marca che funziona davvero bene è in lingua italiana la richiudiamo sicuramente andremo a recensirla faremo una roba veloce sul canale e niente la lasciamo un attimo da parte io non ho più nulla ma domani e dopo mi arriveranno sicuramente altri pacchi niente al prossimo video ciao ciao